Oggi pomeriggio abbiamo incontrata una squadra al di là di risultato rivoluzionata completamente con fronte a quella di un anno fa tra partenze e infortuni. L'infortunio principale è quello del portiere Lorena Politi, il secondo portiere infortunato a un nito, quindi c'è un giocatore di movimento che gioca tra i pali, altre ragazze che si affacciano per la prima volta forse a calcio a 5 e la veterana sempre presente Matassini. Questo era un po' il roster della squadra avversaria. Noi abbiamo fatto la nostra gara, abbiamo fatto un buon giropalla, ho fatto fare l'esordio ancora a due ragazze della Juniores, Picano e Pelliccia e quindi abbiamo portato da casa un risultato diciamo in maniera netta anche se facile forse. L'unica cosa è questo che facciamo di fronte a un avversario rimaneggiato in parte ma sicuramente potrebbe dire la sua per una buona metà classifica e far crescere queste ragazze che si affacciano la prima volta nel movimento dei futsalni rosa. Tutto qua.